...dieto di poter avviare questa iniziativa e inaugurare questa struttura che per noi è la prima dell'università ed è desiderata almeno da dieci anni, quindi più o meno abbiamo venuto a parlare di queste cose intorno al 2002 quindi da dieci anni siamo venuti a realizzare. È importante perché ha due aspetti fondamentali il furo e il segnale verso tutti quelli che possono avere...